Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi uno svuota la spesa un po' diverso perché sono andata al mercato con mia sorella e quindi volevo farvi vedere quello che ho preso allora siamo andati in un banchetto dove lei va sempre e in effetti capisco perché ci vadano dei prezzi eccezionali la roba è buonissima e anche loro sono delle persone bravissime iniziamo con la verdura ho preso i finocchi ne ho presi sono 2, 3, 4, 5, 6, 6 finocchi poi ho preso una decina di banane poi invece qui tipo una quindicina di zucchine una l'ho già presa da mettere sul passato di verdura per pia che anche lì ci sono delle novità che presto vi farò vedere poi qui invece ho preso delle patate non lo so bene quanto sono ma saranno una quindicina poi l'insalata quella lì ce l'hanno regalata e poi invece lì ci sono i broccoli che loro in questo banchetto li vengono già così tagliati secondo me è molto buono perché eviti di pagare tutta la parte del gambo che non si mangia bisogna darci un occhio perché come vedete magari ci può essere quella già pronta proprio da mettere in pentola e quella che invece bisogna dargli ancora un taglietto però comunque va bene infatti andrò sempre lì a prendere i broccoli e poi le cipolle queste qui dorate perché non ne avevo più poi invece di frutta ho preso delle pere ah le banane me le avevo già fatte venere e poi l'avocado le ho presi un po' più indietro perché ne ho ancora uno che sta finendo di maturare ci piace tantissimo al mattino a colazione col pane tostato sopra all'incirca più o meno un ottavo di avocado ecco perché lo divido a metà poi lo divido in quattro ogni metà quindi un ottavo di avocado sopra al pane e siamo a posto e ci piace un sacco allora qui è tutto quello che ho preso io spero che vi sia piaciuto fatemi sapere se anche voi andate al mercato se preferite prendere la frutta e la verdura al mercato piuttosto che al supermercato io lo preferisco però diciamo che ci sono dei momenti nella vita un po' di tutti dove si passano appunto dei momenti un po' così e quindi la voglia di uscire è pari a meno 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 zero e quindi sto cercando di risollevarmi e quindi ho deciso che una delle cose da fare è andare al mercato a prendere la verdura in modo da uscire vedo mia sorella faccio qualche parola anche Pia fa una bella passeggiata un bel giretto e quindi niente da ora in avanti ci sarà anche questa nuova diciamo rubrica questo nuovo tipo di video svuota la spesa mercato adesso vado io spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao ciao